eccoci qui papà non vi può guardare e Daniele papà non vi può guardare ma io sì perché lui sta guidando sì perché devo anche guidare e è una vigilia di Natale un po' strana perché non si può fare nulla non si può stare tutti insieme non si può stare in famiglia e quindi io posso giusto riaccompagnarti a casa è il massimo che posso fare perché devo accompagnarti a casa e dunque stanotte si va a dormire presto sì perché domani viene poco Natale e domani io faccio un video premendo a papà e poi lo pubblica appunto guarda quante belle lucette ci fanno pensare a Natale aspetta adesso vi faccio vedere per bene ok quindi ah i laberelli sono troppo carucci questi laberelli facciamoli vedere dai diciamo che cosa dovrebbe accadere questa notte che come abbiamo detto nel scorso video che è Babbo Natale dovrebbe scendere giù alla tua casa e mi porti i regali sì quali regali dovrà portarti quali hai prenotato te li ricordi questa volta allora cerco di ricordarmi la cover specchiata il bambolotto poi bambolotto alla tua età ancora questi bambolotti eh sono troppo belli non è colpa mia sì poi ah un faderino con la tastiera però ci mette il telefono invece nel computer non so se avete capito però ah una tastiera grande che è collegata al computer ah il telefono ecco per rendere più aggivo le infatti poi un apple pencil però per il telefono non per l'ipad ma per il telefono poi ah un fondotinta della media e poi e poi un orologio che ho chiesto io a Babbo Natale di consegnarti un orologio anche va bene ci auguriamo che tutti voi bambini avrete ricevuto ciò che desideravate giusto tutti i tuoi colleghi bambini però devo dire una cosa che non si dice colleghi si dice coetanei vabbè devo dire una cosa ogni anno Babbo Natale a me mi dà anche qualcosa in più chissà se quest'anno me li porta sì o no sono curioso di vedere domani lo scoprirò ah ho capito una specie di bonus di extra di regalo nel regalo sul regalo mh interessante vediamo se quest'anno me lo porta vediamo domani vediamo pubblichiamo questo video vediamo che cosa accadrà così tutti quanti sapranno che cosa hai ricevuto e vabbè c'è un po' di pazienza quest'anno abbiamo usato i nostri risparmi per poter fare ciò che dovevamo fare visto che il lavoro è stato poco e per pochi e allora io sono quasi arrivato a casa bisogna andare a dormire presto ciao ciao bimbi bimbe sì bimbi di tutte le età dai 0 ai 95 anni quelli non sono bambini però per me sono tutti bimbi io sono bimbo sono bimbo dentro voglio andare via da questo mondo bimbo dai saluta noi ce ne andiamo Lucia e Daniele vi salutano ciao ciao